Seconda parte della nostra lezione sulle fibre tessili di origine vegetale. Abbiamo parlato del lino, continuiamo il nostro discorso affrontando le ultime due fibre tessili di origine vegetale, ovvero la canapa e la iuta. La canapa non è altro che la fibra che si ricava dal libro, ovvero questa parte che vedete, del fusto della cannabis sativa. La cannabis sativa non è altro che una pianta annuale che è originaria dell'Asia, però viene anche coltivata in Cina, in India, nell'ex Unione Sovietica ed anche in Europa. La lavorazione dei fusti che sono alti anche, possono raggiungere anche 5 metri, generalmente sono leggermente più bassi, intorno ai 2-3 metri, e quindi il ciclo di lavorazione è molto simile a quello del lino. E quindi abbiamo la raccolta, la macerazione, la lavatura, l'essiccamento, la stigliatura, la cernita ed infine la pettinatura delle fibre. Negli opifici la fibra grezza viene sottoposta ad operazioni sia di cernita, come ho detto, e di pettinatura. Durante la cernita viene suddivisa a secondo della lunghezza del colore e anche della morbidezza, mentre durante la pettinatura le fibre lunghe vengono separate dalle fibre più corte e anche di qualità più scadente, che verranno utilizzate per fabbricare corde, sacchi e rivestimenti. Inoltre, nelle industrie di oggi, la canapa viene sottoposta al cosiddetto processo di cotonizzazione, cioè viene prima imbiancata, disintegrata fino a ridurre le fibre in piccoli fiocchi come il cotone, e questo ha lo scopo di trasformarla in un filato più fine, più regolare e di conseguenza anche più morbido. Le fibre più grossolane e le fibre fini costituiscono quindi le materie prime della lavorazione della canapa per la produzione di fibre tessili. Da che cosa è costituita? È costituita sostanzialmente da cellulosa, anche la canapa, e possiede un buon potere assorbente, non come il cotone, ma ha delle proprietà che possono essere analoghe a quelle del lino, ma rispetto al lino è molto più resistente e più ruvida. Guardate queste immagini, proprio si vedono la ruvidità della fibra, appare molto consistente, molto fibrosa. Trova impiego nell'abbigliamento, nell'arredamento, nella fabbricazione soprattutto di teli, di sacchi, di tendoni, di cordami. Il colore delle fibre varia dal bianco avorio, quindi un bianco che tende al giallino, al bruno proprio corda. Osservate proprio queste colorazioni delle fibre. Dipende sempre dalla varietà della pianta che stiamo andando a coltivare. La canapa italiana, generalmente di colore biondo chiaro, è molto morbida, lucente ed estremamente pregiata. La migliore qualità di canapa si usano per fare tele che sono anche spesso mischiate al lino, quindi si ottiene un filato che non è solo canapa, ma mai un mistolino. E viene utilizzata per l'abbigliamento, per l'arredamento, per la tovaglieria. Mentre la canapa può essere anche utilizzata per la produzione di spaghi, cordani, scinghie, nastri, cavi, proprio perché ha una resistenza alla trazione molto elevata. Come ho detto, il ciclo produttivo della canapa è molto simile a quello del lino. Anche in questo caso gli steli sono staccati da terra e vengono riuniti in fasci. Qua potete notare anche come avviene la raccolta meccanizzata della canapa. Questi steli, come nel lino, vengono fatti essiccare e sono liberati dai semi. Segue la macerazione in cisterne con acqua calda intorno ai 30 gradi centigradi per un periodo che può variare dai 4-14 giorni, allo scopo di sciogliere la pectina, come avveniva nel lino. Per quel che riguarda l'esticazione viene fatta generalmente all'aria per eliminare l'umidità in eccesso e, come ho detto, la cernita serviva per suddividere le fibre in base alla lunghezza. Passiamo alla iuta. La iuta è la fibra tessile, anche questa a base di cellulosa, però in questo caso è fortemente lignificata la cellulosa, e si ricava dal fusto del corcorus. Vedete qui la pianta. Questa è una pianta tropicale erbacea che, a differenza delle altre, è perenne ed è originaria dell'India e coltivata principalmente in India e in Birmania. La fibra si ricava dal fusto tramite un trattamento di macerazione seguito da una serie di operazioni meccaniche. Quindi potete notare che per quel che riguarda sia l'aiuta che la canapa che il lino, il ciclo produttivo è molto molto simile. Il colore della fibra può essere giallo chiaro o che tende al bruno giallastro. L'aiuta è proprio per le caratteristiche di essere fortemente lignificata e una fibra più ruvida e grossolana rispetto al lino e rispetto alla canapa. Trova un impiego essenzialmente nella produzione di teli, sacchi da imballo o per tessuti che sono anche utilizzabili come stoffe per rivestimenti o supporti per tappeti. Quindi questo tipo di fibre generalmente non lo troviamo, non lo utilizziamo per l'abbigliamento, proprio per le caratteristiche della fibra che non hanno una buona morbidezza e quindi al contatto con la pelle sarebbero decisamente sgradevoli. Con queste due fibre di natura vegetale abbiamo concluso lo studio delle fibre tessili di natura vegetale. Le prossime lezioni introdurremo e inizieremo a parlare delle fibre tessili di origine animale. Ci vediamo la prossima settimana.